Sì, beh, ma io direi che il record è arrivata la decima edizione, ho avuto un modo di dire poc'anzi in conferenza stampa, farne una, due, tre, è abbastanza facile, fare la terza, la quarta, la quinta, la sesta, quindi onore e merito agli organizzatori, alla signora Laganà, una manifestazione seguitissima che naturalmente porta in alto la città di Messina, ma naturalmente porta in alto tutta la Sicilia natatoria e non solo, perché è una manifestazione seguita da tanti anche non addetti ai lavori. Quest'anno, ahimè, c'è stato l'inconveniente della piscina e come dicevo appunto poc'anzi, purtroppo questo è il vero problema dello sport, cioè l'impiantistica, quello che è successo qui a Messina purtroppo sta succedendo in tanti altri impianti della Sicilia e davvero grazie a queste manifestazioni è necessario interrogarci su quello che è il futuro dei nostri impianti, perché così davvero lo sport muore. La presenza di spicco sarà quella di Gianluca Maglia? Sì, Gianluca che è chiaramente la nostra punta di diamante nel nuoto siciliano, ma credetemi ci sono davvero tutti i migliori nuotatori della Sicilia, ma soprattutto c'è la presenza di Mirko, questo straordinario ragazzo che appunto grazie alla tenacia di sua mamma continua a essere sempre nei nostri ricordi grazie a questa manifestazione, quindi davvero in quel caso la manifestazione annoverrà i migliori atleti che appunto saranno tutti i migliori atleti della Sicilia nel ricordo di Mirko.